Sala 5. Tasso. Il tasso è il più grosso dei mustelidi, mammiferi carnivori italiani, lungo circa 80 centimetri. Caratterizzato da testa piccola ed allungata con muso corto ed appuntito, occhi piccoli ed orecchie arrotondate. Il pelo è folto e grigio. Sembra lento e pigro, ma è in grado di correre velocemente sulle brevi distanze, sia per cacciare che per fuggire da eventuali pericoli. È diffuso in tutta l'Europa e nell'Asia centro-settentrionale, mentre in Italia lo si è vista su tutto il territorio, ma non in Sicilia e Sardegna. Vive soprattutto in ambienti collinosi e di pianura. Con le sue robuste unghie scava con facilità lunghi cunicoli che usa come Tana. Le tane sono profonde gallerie, lunghe anche diversi metri. Vive in gruppo. Trascorre gran parte della sua vita nella Tana, da cui esce solo di notte. Alla fine dell'autunno si ritira nella Tana e vi trascorre l'inverno in letargo. Nel mese di ottobre si accoppia. I piccoli diventano adulti in un paio di anni. Il cibo che ricerca durante le uscite notturne della Tana è costituito da insetti, larve, vermi, lumache, uova d'uccello, miele, frutta e bacche, bulbi e, se riesce a catturarli anche piccoli mammiferi e uccellini.